ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillo cicoso canale scusate il mio tono di voce abbassato ma siamo sto registrando questo video in piena notte infatti da poco scattata la mezzanotte del 20 di maggio stavo pensando appunto mentre creavo appena finito infatti di realizzare una creazione che poi vi mostro stavo pensando appunto di rendervi partecipi di un'opportunità fantastica che va presa al volo quindi ho pensato di non attendere domani a girare il video ma di farlo adesso perché è un'opportunità proprio flash che va presa al volo e quindi giro ora questo video puoi lo mettere in carica in modo che sicuramente domattina riesco a farvelo appunto vedere subito in modo che potete avere tutta la giornata per poter approfittare di questa opportunità che ora vi illustro allora qui davanti non vedete in questo momento non vedete un gioiello ma vedete delle perline eccole qua non so sicuramente le riconoscete se avete visto il mio video precedente quello dei consigli per gli acquisti dal sito per linee fantasy sono queste favolose ginkgo che hanno veramente fatto impazzire tutte noi creative sono le bronza polo turquoise ricorderete il nome e sono veramente un colore spettacolare che a me ha colpito veramente tantissimo già in fotografia quando sono ricevute sono rimasta proprio entusiasta ve l'ho già appunto detto nel video dove vi ho mostrato anche tutti gli altri acquisti avevo acquistato due bustine mi ero pentita infatti di averne acquistate soltanto due soprattutto quando ho visto la resa lavorata e infatti delle due bustine mi sono avanzate soltanto queste poche ginkgo ricorderete che allora ho realizzato scusate che queste qua per prima che ve le ho già mostrate appunto nel video degli acquisti ci tengo sempre a farvi vedere come ho detto anche nel video qui si è la perlina lavorata perché sicuramente rende ancora meglio la sua bellezza questi sono i miei orecchini a kind of magic è stato il primo progetto appunto già quando le ordinate stavo già nella mia testa pensando agli abbinamenti per questi orecchini che adoro e piacciono sempre tantissimo quindi sicuramente ho pensato a loro in primis eccoli qua poi ho realizzato anche una seconda versione sempre praticamente simile ma diverso nel senso che ho utilizzato gli stessi colori per quanto riguarda ovviamente le ginkgo che sono le protagoniste e anche le super duo anche le rocca e sono le stesse ma poi sono partita da un rivoli di colore diverso e ho giocato con i colori anche delle perle dei bicon ho cambiato appunto l'abbinamento questi sono ancora gli a kind of magic e poi eccoli qua mettiamoli qua in bella vista poco fa vi dicevo che ho appena terminato una creazione e ho realizzato il mio bracciale dream sempre con queste meravigliose ginkgo guardate che meraviglia mettiamolo qua anche lui in bella vista guardate è tutto questo per farvi vedere appunto questa perlina lavorata perché se ancora non l'amate come me voglio farvi vedere come bella ha lavorata e voglio appunto informarvi di questa opportunità che ci ha riservato cristina di perline fantasy vedendo che questa perlina è piaciuta talmente tanto che è andata ruba io nel video vi avevo detto nei video acquisti avevo detto che erano in arrivo sul sito in effetti sono arrivate proprio in fretta da lì a poco penso se non il giorno stesso che ho pubblicato il video il giorno dopo e sono andate comunque subito a ruba ora sono di nuovo in arrivo e cristina ha pensato di creare un kit proprio dedicato soltanto a questa questo colore di perline un kit di perline cioè non è un kit creativo con schemi e quant'altro io vi ho mostrato il mio utilizzo perché per essere di spunto poi ovviamente voi potrete utilizzarle in qualsiasi creazione che voi volete queste perline cristina ha realizzato un kit che ha chiamato kit lisa e pensate sono ben 50 grammi quindi l'equivalente di 10 bustine di questo meraviglioso colore che veramente ha fatto letteralmente impazzire tutte è sempre più introvabile quando arriva comunque va ruba quindi avere una bella scorta è sicuramente una buona opportunità soprattutto come in questo caso che cristina ha realizzato proprio un kit con un'offerta un offerta flash da prendere al volo quindi un prezzo veramente fantastico 10 bustine come vi ho detto sono i 50 grammi come vedete qua il prezzo di destino sarebbe 18 euro 50 ma cristina ovviamente per fare una promo molto appetitosa ha pensato di lanciare pensate a un prezzo veramente bomba ovvero 15 euro 80 per 50 grammi di queste meravigliose perline pensate quanti bei lavori potete realizzare anche perché credo sia un abbinamento come potete vedere molto adatto anche all'estate racchiude per me i colori miei preferiti quindi credo che tanti come voi tanti come me la pensate uguale adorate questi colori ho visto anche l'entusiasmo che c'è stato quando ho pubblicato nei vari social appunto questi progetti il bracciale l'ho appena pubblicato ma già ha ricevuto parecchi consensi anche se da qualche minuto online allora quindi l'offerta ve la riassumo mi sono scritta qua il bigliettino per non perdere nessuna nessun nessun appunto diciamo si chiama kit lisa sono 50 grammi di ginkgo bronze apollo turquoise e anziché 18 euro 50 potrete averla al prezzo di 15 euro 80 prenotandole entro oggi mi raccomando 20 di maggio io vi lascerò qui sotto ovviamente il sito il link al sito di cristina perline fantasy vi lascerò anche la mail di perline fantasy dove potete appunto scrivere a cristina per poter prenotare la vostra confezione da 50 grammi di queste meravigliose ginkgo io sono contentissima che posso essere stata l'ispirazione diciamo cristina per creare questo kit che ha chiamato con il mio nome ripeto è un kit che comprende soltanto le perline non siete assolutamente obbligati a seguire nessun tutorial in particolare poi siete liberi di utilizzarle come più vi piace la mia come vi dicevo è stata solamente un'idea per farvi vedere l'effetto lavorato di questa meravigliosa colorazione io vi ringrazio per aver visionato questo video spero di aver fatto buona cosa a rendervi partecipi di questa opportunità che secondo me è veramente da non perdere ringrazio cristina per avermi coinvolto in questa bellissima cosa e noi ci vediamo alla prossima ciao